Dopo anni sono tornato dalla famiglia dei Dreamy con questo D10S, lo sto adorando, ma... Benvenuti ai miei tornati del canale, sono Nicola Sagliano e oggi siamo in compagnia di questo nuovo robot aspirapolvere che in realtà è uscito da qualche mese ormai sul mercato, mi ha contattato Dreamy, mi ha detto ma sai che ti va di provarlo? E sì, in realtà mi serviva proprio un nuovo robot aspirapolvere perché sto cambiando casa, cambio studio e quindi nella nuova i vecchi li lascio qua ai miei genitori, mi serviva un robot e cercavo sempre qualcosa nella fascia generalmente media del mercato, lui costa 350€ a prezzo pieno si trova con qualche offerta a 2,99€, non ho al momento un coupon, cercherò di farmelo mandare in caso, vi ricordo, c'è il canale Telegram delle offerte qua giù in descrizione unitevi, che vi posto qualsiasi offerta, mi arriva sulla descrizione, faccio un po' fatica ad ottenerle aggiornate in passato ho portato sul canale diverse volte robot più o meno di questa fascia di prezzo poi mi sono fermato un pochino perché trovo il mercato un po' statico, un po' fermo non ho fatto grandi aggiornamenti e mi sembravano un pochino tutti la stessa cosa ho detto vediamo un po' a distanza di anni se il mercato si è mosso, in che modo nella fascia alta il mercato è cresciuto tanto sia come qualità sia come prezzo penso anche in caso di Rimi all'L10 Ultra che ha tante cose fighe però il prezzo è sostanzioso, sulla fascia media beh ci sono cose positive, miglioramenti, cose aggiustate ma nulla di così incredibile, rivoluzionario come mi sarei aspettato dopo questi anni partiamo da quello che vi arriva a casa troviamo un manuale gigante che non vedo da tantissimo in questi prodotti troviamo subito il robot e spicca il LiDAR qua in alto esteticamente non è cambiato tantissimo da tutti i vecchi prodotti di Xiaomi sul fondo noto le ruote che sono diventate un pochino più sottili del vecchio modello ma più rigide, più robuste dovrebbe avere una forza maggiore per scavalcare dei gradini poi troviamo un po' di altri accessori abbiamo la base, super minimal con l'uscita del cavo forzata sulla parte destra e un adesivo sul fondo per evitare gli esiguitamenti più scelta intelligente cavo di alimentazione della basetta con la spina italiana la spazzola da installare sul robot che adesso andiamo a mettere e qui sotto troviamo il kit invece per lavare l'installazione della spazzola è sempre molto molto semplice basta semplicemente fare pressione e inserirla sinceramente per il prezzo mi sarei aspettato anche qualche ricambio in confezione magari la spatola centrale, cose che ci usurano poco e magari li cambiate a distanza di un anno, due anni dell'acquisto del robot però poi appunto perché le acquistate a distanza di anni poi non è facile reperirle, non sempre si trovano anche se devo dire una cosa che apprezzo dei Dreamy è che generalmente hanno molti prodotti di ricambio anche compatibili, ci sono tantissimi cloni per quanto riguarda tutte le varie spazzoline quindi si riescono a trovare facilmente nel mercato sia originali sia cloni della Cina parlando in generale dell'estetica lo trovo molto bello molto più rotondo rispetto a vecchie versioni però le plastiche lucide mi sembrano un po' meno gommate dei vecchi prodotti tendono a graffiarsi un po' di più l'utilizzatore è relativamente poco e ha già bei segni, bei graffi perché comunque lui cercherà di passare sotto i mobili in casa mia il peggio sono i termosifoni che sono proprio all'altezza giusta dove lui entra ma tende un pochino a graffiarsi a volte si incastra sotto i mobili cose normali purtroppo di questi tipi di robot che tendono a rovinare molto la superficie per fortuna non sono danni importanti sono solo danni estetici però tende a fare invecchiare il robot esteticamente molto molto presto in generale a parte le plastiche mi sembra tutto assemblato in modo molto solido anche la base per quanto sia semplice la trovo fatta meglio dei vecchi modelli e allora perché quella copertina? ve lo spiego dopo che l'abbiamo messo in funzione andiamo a fare la prima installazione insieme vado a posizionare nel mio angoletto qua con tutta la roba della pulizia la base del robot ci ha avvisato che si è connesso alla rete l'app ci dice che è tutto a posto si è connesso eccolo qua abbiamo il nostro robot nell'app prima di fare la mappatura voglio vedere ci sono degli aggiornamenti perché non ha senso fargli da fare infatti c'è un aggiornamento firmware ci dice che ci metterà 5 minuti poi configuriamo la lingua perché insomma ci sarà anche la lingua italiana visto che c'era nel vecchio Dreamy e poi faccio fare un primo test di mappatura e poi vediamo come va a pulire lui ha finito di aggiornarsi ho avviato una mappatura per vedere quanto tempo ci impiega come la fa vediamo un pochino come sta andando in questo caso è super veloce a fare la mappatura ho già visto che non si è incastrato in quel tappeto maledetto che mi frega tutti i robot infatti devo alzarlo sempre se l'è cavata bene però non stava aspirando quindi dovrò riprovare poi quando andiamo effettivamente ad aspirare c'è il mio gatto curioso che vuole andare a vedere che cosa sta facendo il robot e intanto qui sto comparendo in tempo reale la mappa che sta tracciando adesso vado ad assicurarmi che in tutta la camera non ci siano altre cose per terra che possono dar fastidio al robot in modo da avere la mappatura completa per la mappatura ho lasciato anche lo stativo che utilizzo per i video e la sedia per capire come si muoveva attorno e non ha fatto una piega la do tranquillamente dritto questo è un altro dei classici problemi che io ho molte cose nella mia stanza che sposto costantemente quindi la mappatura è sempre un po' un problema perché potrebbe cambiare però vedo che lui adesso lo sta facendo molto molto bene questo specchio è sempre stato una delle cose più bastarde che ho avuto qua in camera con l'altro robot quello con la telecamera che ho dovuto mettere via si confondeva tantissimo e anche il LiDAR di solito ha sempre qualche problema con lo specchio sebbene su alcuni punti non abbiano fatto dei passi da gigante sul software sull'abbinamento su me sono migliorati tanto questi prodotti io mi ricordo ancora i drammi sui vecchi Roborock che se fallivi la prima connessione era un suicidio riuscire a ricollegarti al wifi se sbagliavi la password si impallavano qua ho fatto anche dei tentativi apposta come prima connessione a sbagliare le password eccetera si è sempre comprato molto bene è stato tutto molto veloce fluido l'app è migliorata tanto l'app Dreamy si può utilizzare comunque ancora Xiaomi Home la grafica è praticamente identica però sul software ne parliamo dopo in generale la cosa che apprezzo molto è anche la prima mappatura veloce che in 10-15 minuti vi mappa tutta la casa e potete già dalla prima pulizia scegliere che stanza fare tutte le impostazioni e questo è intelligente la cosa che non mi piaceva nei vecchi software era che doveva prima fare un paio di pulizie prima di mappare completamente la casa ma questo voleva dire che se avevate zone in cui lui non doveva andare le prime volte dovevate comunque impedirglielo in qualche modo fisico adesso è molto molto più comodo anche la pompa di aspirazione è migliorata rispetto al passato aspira molto più forte si nota tanto quando mettete malità turbo sui tappeti ho visto che nel mio caso gatti e cani in casa riesce a prendere molto meglio i peli che sono fastidiosi da catturare già sul pavimento nei tappeti è micidiale e si comporta comunque lo sommato bene quello che ancora un pochino ha difetto sono sulle briciole grosse a me capita tantissimo quella di tira dei gatti che è una cosa grossa spessa lì fa un po' fatica perché quando passa tende comunque a sparare un po' in giro le briciole deve passare più volte per toglierla tutta quando non magari le spara in posti dove dopo non può passare tipo nell'angolo dove non ci arriva quindi diciamo che bene su quasi tutto molto bene sui peli per quanto mi riguarda su lettiere briciole grosse fa un po' fatica magari impostando che nelle stanze dove sapete che avete i gatti di fargli fare due o tre passate così siete sicuri che pulisce tutto però poi ho fatto una lap è fatta bene parliamo dell'app perché è la cosa che mi è piaciuta di più il firmware è migliorato tanto del robot dell'app finalmente è un'app di gestione completa fatta bene supporta la mappatura multipiano quindi possiamo salvare più piani io ho due piani in questa casa posso tranquillamente mappare sia il piano terra che il piano superiore e in base a dove è il robot usare una mappa o l'altra posso mappare ogni singola stanza dargli un nome in modo da controllarlo voglio se senti i vocali e direi di andare più direttamente quella stanza posso registrare per ogni stanza con che potenza deve aspirare zone da evitare zone da evitare quando è montato l'accessorio del lavaggio scegliere l'ordine con cui lui deve svolgere le pulizie dentro le stanze per ogni stanza quante volte passare e tutte le solite cose che si potevano fare già in passato quindi programmare avvio stop eccetera ho notato però che con l'app Dreamy non ho trovato modo di invitare un'altra persona con Xiaomi Home è possibile condividere la casa e quindi far vedere anche il robot ad un'altra persona con l'app di Dreamy non ho trovato il modo magari l'aggiungeranno in futuro comunque un'app ancora relativamente nuova in questa versione economica non abbiamo la basetta autosvuotante abbiamo il classico sistema a filtro e dobbiamo svuotarlo ogni circa due tre pulizie in base a quanto sporco avete a quanti peli avete in casa la dimensione la batteria è comunque ottima perché vi garantisce secondo me un 200 metri quadri di spazio di pulizia attivo li fa perché io quando pulisco i due piani insieme lo stesso giorno fa circa 100 metri quadri di pulizia e consumo la metà della batteria quindi insomma 200 ci state alla perfezione sempre apprezzatissimo l'accessorio che è incastrato qua nel vano superiore per tagliare i capelli i peli che si incastrano nelle spazzole spazzola che è un'altra novità rispetto al passato perché non ci sono più le spazzole classiche con le setole ma c'è questa qua nuova in silicone e qui mi aggancio un pochino iniziano i primi problemini non tanto per la spazzola anche se in parte lei questa spazzola fa un sacco di aderenza in più vedo che aiuta molto di più a prendere su lo sporco ma questa aderenza maggiore è problematica è problematica per quale motivo perché lui non è intelligente come modelli di fascia alta non ha una telecamera per evitare alcuni ostacoli classici penso ai cavi dei cellulari penso ad una tenda molto lunga che magari tocca il pavimento ecco la combo del fatto che lui vada sugli ostacoli e di questa spazzola che fa molto più attrito io ho trovato lui magari arrampicarsi anche su una tenda fino ad incastrarsi o mangiarsi un cavo è un problema tipico è un problema che ho sempre avuto con praticamente tutti i robot di questo tipo e so che dovrei provare uno di fascia alta con la telecamera per evitare questi problemi e lo trovo un problema scomodo soprattutto perché lui è talmente comodo che voi volete solo programmarlo e dimenticarvi che parte vi pulisce casa e lo fa però se mi devo ricordare che ogni mattina devo stare attento a fare un giro in casa e togliere tutto quello che ho in giro a quel punto non è così tanto comodo intanto che sono cose il mio potere quindi la mattina vi devo ricordare di spostare un cavetto o le ciabatte lo faccio e va tutto bene ma quando sono fuori casa vi ho la pulizia alle 10 del mattino e magari i miei gatti buttano un cuscino a terra e lui si incastra con questa spazzola a quel punto diventa un pochino più complicato e rognoso parliamo anche di tutta la parte di lavaggio se in passato avete visto i miei video sui robot sapete che non apprezzo per nulla il sistema di lavaggio di questi modelli quindi quel panno che si inumidifica e sporcano un po' per casa con dell'acqua bagnata e lo chiamano lavaggio devo dire la verità in questo sistema hanno migliorato un pochino le cose perché ci sono dei magneti perché c'è una parte elettrica che gestisce la quantità di acqua per bagnare il panno quindi non è più una roba casuale come succedeva nei primi modelli l'app permette di scegliere quanto bagnare il panno per ogni stanza quindi potete bagnarlo meno se avete il parquet di più se avete del marmo con delle fughe larghe ma in generale non lava bene non lava bene perché è proprio il tipo di panno il tipo di montaggio che non fa pressione il fatto che non spazzoli il fatto che quando avete sul panno vi dovete ricordare di escludere le zone con i tappeti in modo che lui non vada sopra se avete i tappeti fissi se avete i tappeti piccoli che magari si muovono ad esempio quelli del bagno non potete escludere la zona perché magari il tappeto è leggermente spostato diciamo che sulla parte di lavaggio a me ancora non convincono hanno fatto passi avanti soprattutto lato software la parte meccanica non è cambiata particolarmente nulla in generale è una di quelle cose lì mi aspettavo più modifiche cacchio costa praticamente quanto il robot che ho comprato 5 anni fa è ottimo non posso criticarlo perché per quello che deve fare pulire è un ottimo robot però mi sarei aspettato migliorie più importanti in questa fascia di prezzo senza dover per forza salire in alto quindi ve lo consiglio sicuramente avendo provato tanti robot in questa fascia è ottimo cioè funziona comunque molto molto bene la navigazione e mappatura con il laser per quanto da una certa parte è scomodo perché il robot è più alto e quindi non passa sotto tipo i divani bassi perché comunque sbatte o contro appunto i termosifoni è un sistema super affidabile mappa in modo veloce è preciso io con quelli a telecamera ho avuto diversi problemi non è perfetto per come vi ho fatto vedere prima anche il discorso degli specchi alcune cose danno fastidio anche a questo sensore fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti io probabilmente devo provare un robot di fascia molto più alta perché magari per le mie esigenze effettivamente cerco in questa fascia qualcosa che mi danno soltanto prodotti più in alto come un sistema di lavaggio affidabile magari in futuro arriverà alla fine di questo video sarebbe stato perfetto consigliarvi di andare a vedere il video sul Dremi T10 ma non l'ho mai realizzato nonostante mi trovo benissimo con quell'aspirapolvere perché è super economico e funziona bene quindi vi consiglio il video che ho fatto in collaborazione con l'Eletech dove vi abbiamo consigliato 5 gadget Xiaomi ottimi e il video su un altro gadget Xiaomi una luce da monitor che costicchia ma secondo me vale la pena se utilizzate tante tante ore il computer noi ci vediamo a un prossimo video